Mani ignote ma esperte hanno forzato l'ingresso della cappella cimiteriale in cui riposano i fratellini Ciccio e Tore Pappalardi, scardinando le lastre di vetro che ricoprono le tombe. La denuncia è apparsa sulle pagine Facebook del sindaco di Gravina, Alessio Valente, che rileva come la tragica storia dei due fratellini non abbia saziato la fame di dolore degli sciacalli. Francesco e Salvatore, di 13 e 11 anni, scomparvero il 5 giugno del 2006 e vennero trovati morti 20 mesi dopo nella cisterna di una masseria abbandonata nella quale forse finirono durante un tragico gioco. La profanazione della tomba dei due ragazzini è stata rivelata al sindaco dal papà dei fratellini, Filippo, fiducioso che le forze dell'ordine possano fare luce sull'episodio e sui motivi di tanto odio. Ho ascoltato con attenzione e con commozione le parole di Filippo Pappalardi, addetto il primo cittadino, e ho voluto esprimergli tutta la mia vicinanza. Una profanazione grave che suscita sdegno e apre la via ad un interrogativo inquietante. Perché? Un gesto del genere come sale su una ferita mai rimarginata. È un'offesa non solo ad una famiglia che piange i suoi bambini, ma ad una città intera che forse, con quella triste vicenda, non ha ancora fatto del tutto i conti. Grazie. Grazie.